Bocus quartieri Barazzetto Vandorno, siamo con l'Associazione Carnevale Benefico del Barazzetto, passo la parola al Presidente Paolo Bisson. Allora, io sono il Presidente, sono la maschera del Barazzetto, il Marchè e la Lacera, che è mia moglie. Facciamo la fagiolata, facciamo la serata in peschiera, giriamo in mezzo a Piemonte per andare a visitare le altre maschere. Passo la parola al mio segretario. Allora, io intanto voglio presentare il Cuoco, Vanni, poi gli aiutanti, Fabrizio, Nicoletta e la signora del San Vincenzo, che dopo farà la sua cosa. Ecco, voglio soltanto dire che abbiamo questa nuova sede magazzino, che ci è stata data dall'assessore Tosi, l'abbiamo rimessa a posto tutto perché purtroppo era una selva e abbiamo rimesso a posto le panche, abbiamo rimesso a posto tutto, adesso è bellissimo il fiore all'occhiero del Barazzetto. Io spero che veniate tutti a trovarci perché è un bel posto e si sta bene al fresco, sperando che smetta anche di piovere, fra virgolette. Passo la parola al Cuoco. Buonasera a tutti, ribadisco quello che ha detto il PRESS e niente, noi cerchiamo di fare tutto per fare star bene le persone e basta. Passo la parola al futuro, quello che comunque salda, che è giusto le cose. Grazie, ancora due minuti solo per ricordarvi l'opera di volontariato nell'impegno della Società del Carnevale, spesa per rimettere a posto questo giardino. Ripeto, opera di volontariato sostenuta a spese nostre, non solo economiche ma anche di tempo, di chiaramente fatica fisica, giusto per ricordare a chi ne usufruisca di tenerlo come noi lo lasciamo, perché ci teniamo che questo posto sia un fiore all'occhiero, come ha già detto il segretario e il presidente del Barazzetto. Grazie.